serata palpitante di emozioni toni truanti serata fiammeggiante oramai nottata sto renderizzando un altro file si bloccherà il programma di editing e taglierò con l'editor di youtube ma non sono cose che possano interessarvi prima prima di renderizzare no nel mentre durante il rendering ma grado questo possa diciamo disturbare il processo di renderizzazione fa contatto e salta tutto ho riguardato piacevolmente attentamente alcune scene di qualcosa è cambiato as good as it gets di james e brooks che adesso è disponibile su netflix netflix non è effetto placebo panacea il mal di vivere ma non è neanche il male così diciamo demonizzato da qualcuno se non fosse stato per netflix non avremmo assistito a the irishman e dovremmo comprare assolutamente se volessimo rivederlo il blu ray o dvd ma esiste il blu ray di questo film che nell'anno di titanic vinse l'oscar per la scelgiatura e vinsero i due attori protagonisti jack nicholson e l'art questo film se non sbaglio dovrei andare a controllare su mdb su wikipedia potrei qui essere erroneo se non fosse stato prima di rincasare errante se non fosse stato per titanic che non vinse di oscar anche perché leonardo di capro non fu candidato che duislet fu sconfitta da elenante ma è più candidata un po emarginata ostracizzata da hollywood chissà allora un attimo ho rivisto anche il making of the shining serata jack nicholson folle di profonde meditazioni nulla di precedentale con questo shining un po sopravvalutato chissà no a livello formale ineccepibile impeccabile con tanto di kubrick che cerca l'inquadratura giusta dal basso verso l'alto mentre voi se qualcuno osa dire che shining non è un capofavoro guardate dall'alto in basso è una cosa diversa allora jack nicholson ama interpreta sempre il ruolo del folle ma non è vero nell'onore di pazzi non dei prezzi però ecco qualcuno volò sul nido del cuculo state ritacchiando l'esatta pronuncia è questa tutti pronunciano culo e sbagliano pensando che pronunciare l'orologio a cucù del terzo uomo or su questo cuculo ecco questo il problema dell'italia e torneremo su questo argomento sibilato che mi è sopillatore mitomani di quest'italia di grandi lavoratori in vero di penosi pensatori e di delle coscienze altrui che molta gente sporca lorda e vuole deprivare precocemente delle loro innocenze brillanti esuberanti giustamente introverse da sognatori c'è il film non è un paese per vecchi neanche un film non altrettanto eccezionale però che fa al caso nostro non è un paese per giovani infatti allora quel capolavoro di mio sformano vinse i cinque oscar principali film regia attore attrice sceneggiatura la pari del silenzio innocenti per rimanere in tematiche di folli un serial killer jack nicholson non è affatto folle forse era un tipo lafalotico che voleva affrancarsi da un sistema che vuole istituzionalizzare tutto e poi vuole destrutturarti se non ti adatti al porcina di massa desidera che tu ti impieghi sia un impiegato e però è lo stesso sistema che poi ti prende per il culo e ti dà dell'essere fantaziano quindi molto ipocrita alla fine c'è la lobotomia che oggi non esiste più tranne casi estremi molto particolari ma lo stesso le persone in questa società omologata che vogliono essere diversificate vengono stigmatizzate sedate e dei centri di salute mentale controllate dovete emanciparvi da tutto questo e combattere per le vostre libertà inalienabili non dovete farvi alienare e farvi trattare e maltrattare da alieni c'è una bellissima scena recitato meravigliosamente qualcosa è cambiato anche se non tutto torna James e Brooks come lo sai lo so l'ultima interpretazione di Jack Nichols adesso soffre di demenza cognitiva la cosiddetta demensia pacox schizofrenia no demenza senile come sostenuto già anni fa da compianto suo amico ex amico Peter Fonda Easy Rider libertà e paura vedete tutto torna l'escursus filmografico-attoriale di Jack Nichols è un autoriale da un certo punto di vista segue una linea precisa intervallata da qualche interpretazione forse incerta o imprecisa o forse precisamente adattata al suo mood un po' flamboyante istrionico vario pinto quindi si passa dal melodrammatico all'essere un commediante un clown un guitto davanti al spettacolo e un grande pavone ora il mio forte pallore state sbiancando voi state impallidendo oh visi palli di Arthur Penn Sean Penn la parte con entrambi Jack Nicholson Missouri Missouri non confondere con Tribal Bores Upside Ebbing Missouri con Francis McDormand Sam Rockwell che è anche quello impressionivamente pericoloso scena stupenda quella del più bel complemento giocata di sottigliezze proprio di sguardi di timidezze di ritrosie però di una chimica straordinaria che si innesca fra questi attori due attori veramente eccellenti eccellsi superbi però attenzione Jack Nicholson qualcuno va non assumere il culo si ribella e viene punito lui dice proprio presso a poco anzi non voglio assumere nessuna sostanza che ma Moshe non dice proprio così anzi avete capito che glielo a Moshe mentre poi c'è la compressione cosiddetta farmacologica voglio recitare un po' come Jack Nicholson cerco di essere un po' sofisticato finissimo come in quella prova soprattutto in quel frangente nel prefinale anche se manca mezz'ora beh mi hanno fatto indossare questo smog in giacca e cravatta appunto sembro un impiegato comunale invece ti hanno lasciato entrare insomma qualcosa di simile quella vestaglia lei non in quel senso ecco sta per andarsi ora se davvero ci tiene a me devi porgermi un complimento qualcosa di complimentoso così che possa ravvedere la mia posizione perché gli ho pensato dopo glielo dici sì questo è un altro un po' pazzo però è un bel uomo e allora Jack Nicholson ecco ti ricordi quella sera ecco quella sera pillole attenzione qualcosa di molto pericoloso pillole supercalifragilistiche spiralidoso un po' di zucchero la pillola va giù e viene zuccherato addolcito rabbonito resi innocuo tornando a Sally Kubrick clockwork orange arancia meccanica ora altrimenti sei un lupo cattivo come Jack Torrance guadde guadde no ecco il mio psicanalista ha detto che nella maggior parte dei casi una pillola diciamo soffro di un disturbo non 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 capisco come possa essere un complimento per me tu mi induci mi porti a desiderare di essere un uomo migliore primo piano un calzante un sumato lentissimo della regia di James Wilbrookes quello di voglia di tenerezza per cui Jack Nichols vinse il suo secondo Oscar quello ottenuto come protagonista per qualcuno e il terzo per qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato i Shani da chi fu doppiato da Giannini Giannini che era presente la manifestazione nel 76 quando Jack Nicholson dopo aver vinto per qualcuno o l'ho come da tradizione annunciò spesso è successo l'anno scorso a proposito di fa falli di folli di falò no è di falli poi c'è la castrazione no? chimica voglio incastrare Joaquin Phoenix che presenta l'Oscar è andato a uno che Anthony Hopkins di The Father al solito avviene la cosa inversa cioè l'attore presenta l'attrice che poi sarà la vincitrice e contro la viceversa insomma viceversa 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 capo verso ripartiamo da capo dalla mia capa e non dalla vostra che è sbagliata Giancarlo Giannini Robert De Niro Jack Nicholson che presenta c'era anche se Fessi Stallone avrebbe vinto Rocky doveva vincere invece Taxi Driver e allora avrebbe dovuto vincere Joker ma vabbè no adesso perdi in chiacchiere ora a prescindere dal risultato finale di Shining ora non volevo tornare su qualcosa è cambiato vedete il pasto di palinfrasca i miei discorsi sono un po' sconnessi è questa questione di 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 connessioni cerebrali dobbiamo equilibrare con qualcosa che possa diciamo rasserenare dare quella tranquillità tipo effetto volume neurolettico che può rimare così ora voglio svelarvi una verità che non sarà mai detta della scienza ufficiale da quando questo è un bel complimento che voglio porgere a me stesso e chi chi sono io non lo so no riguardo chi avrà fiducia in me rigenerato rigenerato anche rigenerato anche rigenerato malgrado ecco mi sia intristito sia stato quasi robotizzato robotizzato sorvigliato educato che maleducato che screnza ecco come è spiegabile questo dalla mattina seguente seguitemi e non perseguitemi perseguitatemi ho smesso di assumere le pillole e come si può constatare forse erano quelle che hanno creato una distorsione non soltanto nella mia mente nella mente di chi pensò di retropensiero e ci riagganciamo alla psichiatria ok detto questo vorrei adesso arrivare affrusciante ora quello che cerco di dire è che affrusciante è un bravo ragazzo però lui stesso ammette spesso di essere depresso a volte sembra che dia un colpa al cerchio e una la botte e no una società di persone depresse però non dovrei parlare io che sono depresso mettiamo le mani avanti no molte persone gli vanno appresso allora lui è il suo lavoro lui svolge onestamente la sua professione per sbarcare il lunario ma mi fanno veramente pena che dovrebbero curarsi sì ma non prendere pasticche però ci vorrebbe un percorso di psicanalisi questi ragazzi oppressi resi depressi da genitori castranti spesso che vedono in lui una figura d'aguro che possa salvarli dal vuoto e dai tanti mali interiori che li affliggono a magnificazione astratta del cinema della musica per colmare le lacune di anime un po' rattrapite un po' troppo chiusi in se stesse che hanno bisogno di un uomo che rappresenti per loro la catarsi in cui possano diciamo incoraggiarsi ma non c'eravate arrivati su questo frusciante è un bravissimo ragazzo ed è bravo quando vuole e non fa il fedente è un strafottente un irriverente anche perché a volte lo fa apposta una posa però lui è la sua vita voi dovete fare la vostra un altro gli chiede realizza la monografia su Abel Ferrara ma perché non la realizzi tu la monografia su Abel Ferrara perché ti rivolgi a frusciante dai forza non ne sei capace a volte il Cina può diventare questo no a proposito di Rocky l'emblema totemico del sogno dell'American dream e dei tipi underdog underground e molto down che sperano una seconda chance per lo meno per resistere e finalmente esistere essere e non essere siate fate divertitevi sbagliate provate sperimentate come Stanley Kubrick forse gli è venuto meglio l'ancio meccanica sicuramente perché Shining non fa paura Shining è un film costruito magistralmente con inquadrature vertiginose a livello tecnico inappuntabile a livello viscerale emozionale molto carente date vita alle vostre emozioni create solidarizzate e non soltanto a qualcuno affidatevi confidatevi con i vostri amici perché altrimenti domani non sarà un altro giorno non è via col vento domani sarà peggio di oggi invecchierete sempre di più sempre di più brontolerete polemizzerete sempre di più verrabbierete però magnificherete la compensazione ripeto di qualcosa che all'interno va a flicce via e prime profondamente vi deprime quando capirete questo piccolo particolare questo è il segreto della vita il mistero nessuno potrà fermarvi ma no non sarete internati sarete invincibili nessuno vi potrà scheggiare e finalmente potrete amare soprattutto voi stessi rifiorire perché è arrivato il momento di vomitare di espellere quel male e come insegna la seconda legge della termodinamica riuscire finalmente a far sì che tutto possa combaciare i sogni con la realtà bellissima scena qualcosa è cambiato ma falsa perché avrebbe dovuto dire a Jake Nicholson questo è il più bel complimento lo psicoanalista mi ha detto così e io non ho assunto le pillole e sai perché? perché io credo di amarti e non ho bisogno di questa merda per dimostrartelo per dimostrare a me stesso che sono il più grande attore del mondo Jake Nicholson non io voi potete essere i più grandi attori della vostra vita però dovete crederci e non lasciatevi fermare secondo la prospettiva ecco dall'alto verso il basso che schiaccia di chi pensa di aver capito la vita invece è seppellito vivo alla nascita you understand? Shining questa è la lucidanza